Ben arrivato a Giovanni Imera, di Caffetteria Imera, alla vostra prima edizione a Repanettone. Esatto, sì. Cosa ci portate qui? Noi siamo arrivati con due specialità, una è tradizionale chiamata con mandorlato di sopra con candite all'arancio, naturalmente levitazione naturale senza conservanti e coloranti additivi in genere e l'altro è il classico milanese con uvetta, cedro e candite all'arancio, tagliata a stella. Naturalmente la nostra, diciamo, facciamo pure altre specialità, tipo frutti di bosco, pistacro e altri gusti. Come state vivendo questa prima esperienza a Repanettone? Una bellissima esperienza, da rifare sicuramente. Sembra e dovrebbe essere in teoria uno stimolo a migliorare la ricerca della qualità nell'ingredientistica e in tutto ciò che riguarda la preparazione di un dolce. È così? Il Repanettone in sé stimola a migliorarsi? Sicuramente a fare sempre meglio, a fare un prodotto sempre migliore, diciamo una ricerca continua nel migliorare il proprio prodotto. Allora facciamo i nostri complimenti e buon Repanettone in un'unica sera. Buona serata. Buona serata.